Su Achille Polonara, ecco la partenza di Jerome Tyson, con scacciata, non arriva l'aiuto, ancora parecchiamo, a quota 90. E' la valla, con la scacciata a terra, siamo già con lui. E' scacciata, David Lowe, più 5 di uno, la stessa era di Jerome Tyson. Vuole che Sosa si avvicini per ricevere questo pallone, ancora Tyson, ancora Tyson. Deve costruire qualcosa dal palleggio, c'è la valla, e in questo modo ha spettato. Cicciarini ha il pallone, nello possibile scudendo Barragerini.